Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News. Quest'oggi parliamo di un filato, o meglio di un cordino con un lurex davvero molto sottile ma ha una resa incredibile. 100% made in Italy, rapporto qualità prezzo imbattibile e nuovi colori costantemente aggiornati. Di cosa stiamo parlando? Ma del Thai lurex di Tessilan ovviamente. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro cordino, Thai con inserti lurex. Allora la composizione è misto cotone e misto viscose metal. Le diverse componenti potrebbero portare quindi a differenze di spessore tra i diversi colori. Allora la lunghezza orientativa è di 330 metri e si presenta così in rocche da 200 grammi. Lo spessore, o meglio il diametro proprio del filato, è di 1,8 mm per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 3-4. Adesso però analizziamo tutte le varianti di colore attualmente presenti e soprattutto specifichiamo quello che è il colore dell'urex. Vai! Iniziamo con i primi quattro. Allora qui abbiamo il rame lux, che ovviamente è lux proprio tono su tono, il beige oro, quindi beige con il lurex oro, cipria oro, sempre cipria quindi con il lurex oro e infine il panna oro e quindi panna proprio con il lurex oro. Qui invece andiamo sui toni del verde, vale a dire il nero smeraldo, quindi appunto nero con la variante lurex color smeraldo. Qui abbiamo il salvia smeraldo per l'appunto, qui abbiamo lo smeraldo lux e qui invece il tiffany lux. Qui invece abbiamo il salvia oro, quindi salvia con lurex oro, qui ancora salvia rame questa volta quindi con il lurex rame, il bianco lux, quindi insomma un bianco davvero molto lucente e infine il silver con un bel lurex argento. Passiamo adesso ai toni del blu ed abbiamo il blu argento, il blu turchese, il navio oro e l'avio viola con questo bel lurex viola. Proseguiamo invece con il nero, questa volta con il lurex argento, qui accanto abbiamo il nero con il lurex oro, qui invece abbiamo il grigio con il lurex rame e infine un bel lavanda lux, tono su tono. E infine concludiamo con gli ultimi due che sono il wine fucsia ed il rosso oro. Quanti colori meravigliosi che ci propone questo tie lurex, tutti diversi l'uno dall'altro. Poi oltretutto la costante ricerca che avviene nei nostri laboratori Tessiland vi consentirà ogni volta di riproporre dei nuovi colori. Questo magari per alcuni potrebbe essere uno svantaggio, il non poter avere una garanzia costante dello stesso colore, ma non vedetela così, anzi in realtà ciò vi consentirà solo di realizzare delle creazioni uniche ed inimitabili e oltretutto di darvi sempre nuove ispirazioni, esattamente come potrebbe essere la pochette golden bracelet della Fata Tutto Fare, che ha realizzato proprio con il tie lurex cipria oro, toni caldi, delicati, tutti diversi tra loro ma con un'unica costante, la brillantezza e l'uccichio del lurex. Se quindi anche voi volete realizzare delle pochette, delle borse davvero uniche, inibitabili e preziose, il tie lurex è il filato adatto a voi. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Al prossimo articolo, ciao! Al prossimo articolo, ciao!